In questo nuovo capitolo prenderemo in esame il periodo di passaggio fra l'Ottocento e il Novecento, con le conseguenze a livello sociale, economico e politico che vedremo nell'ambito del capitolo. Il periodo da noi preso in considerazione passa alla storia con il nome di Seconda Rivoluzione Industriale, quando avvenne tra metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dove avvenne, soprattutto negli Stati Uniti, in Europa Centro-Settenzionale e in minima parte in Italia del Nord e in Giappone, per quali motivi avvenne? La scoperta di nuove fonti energetiche, il petrolio e l'energia elettrica, che diedero origine all'industria chimica, che inventò i fertilizzanti chimici per l'agricoltura e la dinamite per l'industria mineraria e per la costruzione delle infrastrutture, e l'energia elettrica diede origine all'industria elettrica, che diffuse in maniera capillare l'illuminazione. Ci furono anche molte invenzioni, una su tutte è quella dell'acciaio, un nuovo sistema siderurgico che, con costi irrisori e tempi brevi, riusciva a produrre un materiale molto resistente, che veniva utilizzato per la costruzione di navi, aeroplani, ferrovie e soprattutto per la produzione del cemento armato, che dava origine ai grattacieli, che sono l'edificio simbolo di questo. Si sarebbe quindi portati a pensare che questo fosse un periodo di grande prosperità, e in effetti lo fu, però nel periodo iniziale, soprattutto tra il 1873 e il 1895, si verificò una severa crisi economica, dovuta alla sovrapproduzione, cioè le industrie si svilupparono così tanto, producevano così tanto, con i loro prodotti, da superare la domanda. Quindi molte merci rimanevano invendute, quelle che venivano vendute, venivano vendute a prezzi molto bassi, e ciò comportò il fallimento delle fabbriche e, conseguentemente, la disoccupazione di molti operai, e in ambito agricolo, la concorrenza spiedata dei prodotti agricoli statunitensi, prodotti appunto in maniera industriale, costrinse i produttori europei ad abbassare i prezzi e, conseguentemente, anche molti contadini finirono con non lavorare più e diventare disoccupati. Quali furono le soluzioni che si trovarono a questa crisi? Dal punto di vista privato, le grandi industrie fecero trust, cioè fecero cartello, si associarono per settore, quindi industrie siderurgiche, alimentari, elettriche e via dicendo, creando dei grossi poli industriali, dei grossi complessi industriali che agivano in regime di monopolio o oligopolio, quindi stabilivano i prezzi delle merci e dei costi di produzione. In più, si crearono le grandi società per azioni, cioè i gruppi industriali si allearono alle grandi banche, facendo in modo da poter ripetere enormi capitali per aprire nuove industrie e per poter migliorare il processo di lavorazione industriale. Dal punto di vista pubblico, cioè dal punto di vista statale, lo Stato mise in pratica delle politiche di protezionismo, cioè forti dazi doganali alle merci provenienti dall'estero, arricchivano il mercato interno e, inoltre, stanziò degli enormi finanziamenti pubblici, sia in forma di denaro sonante, in forma di denaro liquido, e sia in forma di commissioni statali, cioè commissionò alle grandi industrie la realizzazione di ferrovie, ponti, strade, per risollevare le sorti di questo settore. Vediamo che in questo periodo, quindi, di grande sviluppo, la ricerca scientifica e tecnologica si mise a totale servizio dell'industria. Di questo periodo, infatti, sono molte invenzioni fondamentali, come il motore a scoppio, un motore molto più ridotto nelle dimensioni e molto più efficiente come prestazioni, l'estrazione del petrolio nel 1859, l'invenzione della dinamite da parte di Nobel nel 1866, l'invenzione del telefono da parte dell'italiano Antonio Meucci, in concorrenza con l'americano Bell, ancora non si sa perfettamente chi l'abbia inventato, l'invenzione del fonografo nel 1877, l'antenato del giradischi da parte di Thomas Edison, che nel 1878 era un grande inventore Edison, inventò la lampadina che portò la luce elettrica in tutte le case. Nel 1888 Dunlop inventò il pneumatico, che rese i trasporti più efficienti, più veloci e più sicuri. Nel 1892 il tedesco Diesel mise a punto il motore a combustione interna, l'immediato antenato dei motori delle nostre automobili. Nel 1895 l'italiano Guglielmo Marconi inventò il telegrafo senza fili, che permise addirittura comunicazioni intercontinentali. L'industria però, abbiamo detto, diventava sempre più grande, sempre più grandi le masse di operai che vi lavoravano. Quindi nel 1911 l'ingegnere americano Friedrich Taylor mise a punto una divisione del lavoro in mansioni semplici, cioè il lavoro diviso in tante mansioni semplici, e ogni gruppo di operai doveva saper fare solo un'unica mansione, in modo da entrare a fare parte di un'enorme catena di montaggio, di cui l'uomo irrimediabilmente diventava un ingranaggio, quindi si avvicinava molto alla macchina. Il primo ad applicare questa teoria fu l'americano Harry Ford nelle sue fabbriche automobilistiche. Infatti questa teoria prende anche il nome di Fordismo. Parallelamente al cambiamento industriale ed economico ci fu un cambiamento sociale durante la seconda rivoluzione industriale. Abbiamo detto che in Europa c'era stata una forte crisi agricola. Le parti di Europa più colpite da questa crisi agricola furono l'Europa mediterranea, quella orientale e l'Irlanda, dai quali paesi si riversarono negli Stati Uniti e in America Latina milioni di immigrati e anche dalla Cina che aveva un'economia soprattutto agricola. Tant'è che la popolazione dei Stati Uniti diventò dai 26 milioni nel 1850 diventarono 82 milioni di abitanti. Nell'America Latina dove c'erano le grandi piantagioni industrializzate da 38 milioni nel 1850 diventarono 74 milioni nel 1900. Come si sistemavano questi immigrati una volta arrivati nel nuovo mondo? Nelle grandi città che diventarono delle metropoli con più di un milione di abitanti. Data l'eterogenità degli abitanti, inevitabilmente si crearono delle disparità sociali per cui nel centro di queste metropoli trovavamo le banche, gli uffici, i negozi eleganti e le case dell'alta borghesia. In periferia, a ridosso dell'industria, trovavamo i quartieri operai popolari senza servizi e in scarsissime condizioni igieniche e di sicurezza. Oltre a questa divisione sociale si operò anche una divisione etnica, cioè gli immigrati tendevano, per avere maggior possibilità di comunicare e maggior possibilità di sentirsi protetti, tendevano a formare gruppo con le stesse etnie, per cui in questi anni si formarono in Italia Little Italy e Chinatown, dove venivano rispettivamente gli immigrati italiani e cinesi. Vediamo più in generale come si era evoluta la società nel mondo. Nell'Europa centro-orientale e in Germania, la vecchia nobiltà terriera conservava il proprio prestigio e dominava ancora. In Gran Bretagna e in Francia, il possesso delle terre non garantiva più il prestigio e il potere, per cui la vecchia nobiltà si era dedicata alla carriera diplomatica o alla carriera militare. Ma la vera rivoluzione dal punto di vista sociale avviene nei paesi industrializzati e in via di industrializzazione, in cui ci fu una forte ascesa della borghesia, divisa in alta borghesia degli imprenditori e degli industriali, media borghesia degli alti funzionari e dei ricchi commercianti e piccola borghesia dei bottegai, degli artigiani e degli impiegati. Ai piedi della società c'erano le grandi masse operaie, per difendere le quali nacquero i sindacati, che avevano a cuore soprattutto delle lotte sociali, la riduzione dello sfruttamento e quindi delle ore di lavoro, la copertura degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, infatti se ci si feriva sul lavoro o se ci si ammalava a causa dell'inquinamento, si rimaneva a casa senza essere pagati e senza essere curati, senza aver diritto né a cure né allo stipendio. Così anche quando non si era più abili al lavoro perché si diventava anziani, non c'era il diritto alla pensione. Questa è un'altra grande lotta. In più puntavano al miglioramento della qualità della vita delle masse operaie, anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dell'istruzione dei figli degli operai e dal punto di vista abitativo. Un'altra grande istituzione che non poté fare a meno di considerare il cambiamento sociale fu la Chiesa. Inizialmente con Papa Pio IX fu ostile ai cambiamenti sociali, infatti nel 1864 questo Papa emanò la prima enciclica, il sillabo, che era un elenco di errori della modernità e soprattutto il liberismo, il comunismo e il socialismo. Nel 1876 pubblicò il Non ex expedit, un'altra enciclica che significa in italiano non conviene, un documento fortemente conservatore, contro ogni tipo di rinnovamento sociale. Il suo successore invece, Leone XIII nel 1891 emanò un'altra enciclica, Rerum Novarum, cioè delle cose nuove, in cui difendeva i ceti dei poveri e dei deboli e promuoveva la formazione di movimenti riformisti e sindacali anche di ispirazione cattolica, quindi era favorevole al cambiamento sociale. Infatti in questo periodo ci sono anche delle innovazioni dal punto di vista politico. Viene esteso il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di maggiore età, cioè suffraggio universale maschile, senza distinzione di ceto e di censo. Di conseguenza c'è la nascita dei grandi partiti di massa, che sono dotati di un'ideologia e di un programma politico, hanno un elevato numero di iscritti e per racimolare voti devono fare propaganda politica. In questa chiave nel 1889 nasce la seconda internazionale, che riunisce tutte le associazioni sindacali e i partiti di ispirazione socialista, che combattono non più solamente per la rivoluzione, ma anche per fare delle grandi riforme. Innanzitutto abolire la proprietà privata, che è considerata la causa di tutti i nazionali, combattere per l'uguaglianza sociale e ispirarsi a Karl Marx, un grande ideologo socialista vissuto dopo la prima rivoluzione industriale. Sempre in ambito politico dobbiamo registrare la nascita del nazionalismo. Dai vecchi movimenti patriottici d'inizio ottocento, che combattevano per l'unità nazionale e per formare le grandi nazioni come risorgimento in Italia, si passò a un aspetto più deteriore di questo sentimento patriottico, il nazionalismo, che proclamava la superiorità della propria nazione seguendo le idee protezionistiche, esaltava la forza militare, l'idea di un uomo forte al comando, quindi volevano uno stato autoritario, disprezzavano i movimenti politici democratici e socialisti e prendevano spesso posizioni razziste xenofobe, soprattutto contro gli ebrei, poi lo vedremo in seguito. In più si svilupparono dei movimenti per i diritti delle donne, per l'emancipazione delle donne. La donna era considerata solamente madre e moglie, non aveva diritto di voto e non aveva uguaglianza giuridica di fronte alla legge. Funero proprio queste le lotte che portarono avanti le suffragette cosiddette in Inghilterra che riuscirono ad ottenere molti di questi diritti, ma ciò non fu ottenuto in tutti i territori d'Europa. Così finisce il primo capitolo del vostro libro. Arrivederci.